Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare sulla rete autostradale regionale. Infipili code per lavori tra Santa Croce e San Miniato nella carreggiata verso Firenze. Per le statali prudenza su raccordo Siena-Firenze per fondo stradale dissestato tra San Donato e Poggi Bonzi in direzione di Siena. Sempre su raccordo Siena-Firenze, possibili rallentamenti per cantieri tra Colle Valdelsa Sud e Badesse, ancora una volta per chi viaggia verso Siena. Uno sguardo al traffico aereo e il volo Pisa-Bristol delle 15.10 al momento segnalato in partenza in ritardo alle 16.20. Prima di salutarci ricordiamo che a Firenze è in corso quest'oggi uno sciopero del trasporto pubblico locale ATAF di 24 ore. Muoversi in Toscana-Infio è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!